Il protocollo d'intesa che perfeziona il rapporto di collaborazione tra la Protezione Civile della Regione Abruzzo e la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, o CISOM, in materia di protezione civile, è stato sottoscritto all'Aquila dal Presidente della Regione, Gianni Chiodi, e dal Presidente della Fondazione CISOM, Narciso Salvi di Pietra Gansili. L'accordo prevede che le due istituzioni si impegnino nella realizzazione di una struttura di protezione civile più efficiente, diffusa sul territorio regionale. La collaborazione tra la Regione e il CISOM potrà anche riguardare ogni altro ambito di interesse, come le attività di anti-incendio boschivo, nonché alla prestazione di specifici servizi per i quali il Corpo Italiano di Soccorso presenta le necessarie capacità tecniche e professionali. L'Ordine di Malta Italia, nel periodo successivo al terremoto dell'Aquila del 2009, ha attivato e gestito direttamente due campi di accoglienza San Felice d'Ocre e Appoggio di Roio. Recentemente ha smobilitato il campo di Buonporto, nel territorio dell'Emilia colpito dal terremoto del maggio e giugno scorsi, dove è stata assicurata assistenza a centinaia di senza tetto. Secondo quanto contenuto nell'accordo sottoscritto, la Regione, nell'ambito della propria struttura di protezione civile, prenderà atto delle articolazioni territoriali del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, rappresentate da gruppi formati a personale volontario appartenente al Corpo, nonché dalle sezioni specialistiche ove presenti. Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta mette a disposizione della protezione civile della Regione Abruzzo il proprio personale e i mezzi in dotazione per ogni attività correlata alle esigenze di protezione civile, per attività di prevenzione nell'ambito di situazioni di emergenza o nell'imminenza di queste, e per gli interventi di ripristino delle normali condizioni di vita a seguito di calamità, In caso di eventi di rilevanza nazionale coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, il CISOM garantirà il supporto alla protezione civile regionale, immobilizzando sul territorio regionale una quota di personale pari al 15% del totale dei volontari operativi, nonché una liquota di attrezzature e mezzi che di volta in volta saranno definiti di comune accordo, anche in relazione alle esigenze connesse a determinati periodi.